Ecco come preparare le frittelle di carnevale in 5 semplici passi. In una terrina unisci 4 uova e 150 g di zucchero. Mescola fino a ottenere un composto morbido e omogeneo. Metti in ammollo in acqua tiepida 150 g di uva passa per 10-15 minuti. Aggiungi al composto 2 bicchieri di latte, 500 g di farina, la scorza di un limone, meglio biologico o non trattato, un pizzico di sale. Mescola con una frusta da cucina. Unisci l'uva passa ammorbidita e una bustina di lievito. Amalgama il tutto. Forma le frittelle. Con un cucchiaio prendi un po' di impasto e versalo nell'olio bollente. Fai poche frittelle alla volta ed evita che si sovrappongano. Rigirale ogni tanto per ottenere una doratura omogenea. Con un mestolo forato togli le frittelle dall'olio e asciugale su della carta assorbente. Consiglio! Una volta tiepide puoi spolverare le frittelle con zucchero a velo e un filo di miele. Buon appetito e alla prossima videoricetta!